Buonasera a tutti, il video inizia così di questo video GoPro Accendete la campanella, seguite tutti i video che metteremo su YouTube Ok E basta E basta E venite a Massa Marittima a bere al Bike & Garage E dopo le scalinate davanti alla chiesa E dopo le scalinate Sì, quelle anche meno però Cioè giorno dopo magari dormite come faremo noi Proviamo a girare perché Tagliate qui le unghie Tagliate qui le unghie Ricchi Buonanotte a tutti, ci vediamo domani mattina Buongiorno di nuovo perché ieri era buonasera E siamo qua a Hotel Massa Vecchia, vero? Sì E ho perso un po' tutto Questo è il nostro mezzo di furgonaggio qua dietro alle mie spalle Io non dico nient'altro, è una figata E ci porteranno qua Sì, ritorniamo gioco il pick up Che cazzo ne frega, qua il Defenderone E oggi facciamo un po' di trail qua a Massa Marittima Vediamo un po' come sono E andiamo Sono un po' addormentato Buonanotte Sì, ma vabbè che fai passare il tipo Alla mattina Ti sono molto bambia, ti fai in tu little Cosa? Qui? Qui è il più più Il più più Oh, oh 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 va bene, questa si prendeva da lì Oh, 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 oh. Alzi era bello lì in mezzo Non so mi sembrava di vedere a destra Allora Mi sono un po' riminchiato dopo due discese Ho capito che sono a massa marittima di nuovo Perché non l'avevo dimenticato Quindi siamo sul monte Arsenti E vi dico quello che ci ha detto la guida Perché io non spero niente Ci sono 4-5 sentieri Che vanno sul versante montagna interno E altri 3 o 4 che vanno verso il mare Che forse si vedrà anche il mare Adesso abbiamo fatto quelli versante interno E adesso invece andremo a fare quelli versante mare Ricky ha trovato l'amico di giochi Uno svizzero che va fortissimo Presente con gli amici di giochi però che perdi sempre Sì Fa sempre modesto Ricky Io e Luca andiamo sempre in coppia Non pensate male Non in quella coppia E via Andiamo a fare il freeride adesso Alla prossima a 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 gambler a a a a a a a c'è un punto che è proprio uh e dopo c'erano delle sponde mi sono incardato di brutto quelle mi erano fatte male quelle anche secondo me erano troppo chiusi si mi sono proprio uh a allora uso la bellissima pump track dell'hotel massa vecchia per fare una conclusione magari forse chiarivi che cosa abbiamo fatto siamo venuti qua a massa marittima in questo bellissimo hotel ripeto massa vecchia e che potete cioè che consigliando i brutto ma perché ha questo surplus del della pump track quindi finito il riding potete venire qua e girare linee di jump anche più grossi chi sa farli può farli e poi cosa abbiamo fatto abbiamo furgonato tutto il giorno con bike service bravissimi e gentilissimi disponibili è molto bello i trail sono veramente belli mi viene da dire un po' per tutti perché non sono così difficile non c'è niente di così difficile come in altri posti è bello però lavorati veramente bene ci si diverte è bello perché tipo noi subito riuscivamo andare forte sono intuitivi e quindi è molto bello quindi consiglio magari di fare un weekend come abbiamo fatto noi magari un po' più lungo perché noi siamo arrivati sabato sera e magari arrivare venerdì sera così si fa sabato e domenica e boh spero vi piaccia questo video abbiate capito qualcosa ciao a tutti salutate accendete la campanella cliccate sulla campanella per seguire sempre i video nuovi che vi arrivano e niente prossimamente faremo farà perché noi siamo lui e lui cosa faremo di capo faremo tantissimi altri video sempre uno più bello dell'altro state connesse Argin Factory Team 100 Bassa Pianoro Factory Yema tutto c'è in mezzo è un casino che non si capisce cos'è faremo un video anche le maglie nuove sui gigi per fare sull'Argin quello stiamo lavorando c'è troppa roba da mettere troppa carne al fuoco quindi lì attendete con ansia quindi accendete la campanella perché arriverà quel video in che dice e tutti gli altri ciao a tutti buonanotte andiamo torniamo a Bologna